Un'emozione incredibile, è surreale, sai quando ti vedi un sogno e dici ma è successo veramente oppure no? E poi è difficile parlare perché appena viene la puntata la cosa che rimane di più sono i rapporti vari che sono ma scusate, non potete fare tutto il visto, appena finita la puntata, non si è passato ma non lo ascoltate, io ci sono cavolate, poi c'è sempre chi rovina tutto è un'avventura incredibile, mai abbiamo pensato quando abbiamo cominciato nel classe di Asiago e adesso ci godiamo questo momento, non so a che dire, guarda, sono veramente emozionato è una sensazione incredibile Il momento più emozionante questa mattina quando hai realizzato che era l'ultima? Sai cos'è la cosa più emozionante? Incrociare gli sguardi di tutte le persone che hanno lavorato al programma e ogni volta che facevamo gli sguardi senza vicini i ragazzi non ce la faccio grazie, grazie Fiore